Sostanzialmente alle prorogazioni si risponde sempre in verità. L'ellissi, la forma della narrazione per ellissi è una costante della narrazione in genere e della narrazione cinematografica nel nostro caso. Un'immagine non è necessariamente conseguente ad un'altra per continuità temporale, ma per continuità di senso. E dunque effettivamente nel film noi abbiamo modo di capire che le cose possono e devono forse prevalentemente essere raccontate per l'evidenza del senso e non l'evidenza di una storia letteralmente intesa. Ovvero sapere che un personaggio ti suggerisce, ti evoca, ti dà la suggestione anche emotiva di una partecipazione a quelle che sono le implicazioni del tema e dunque attraverso i personaggi c'è anche le implicazioni del vissuto dei personaggi stessi o della loro tipicità e nello stesso tempo della loro vita emotiva. È un qualche cosa che ci permette di essere liberi nel montare, liberi nel montare ma liberi nel concepire una storia. E questo il film lo ha costantemente perché sente la capacità e il bisogno di far incontrare delle fasi anche diverse proprio perché questo è il principio guida. poi diciamo anche che nel film c'era il bisogno di partire da un oggi che tu hai poi rivisto come impostazione del racconto. c'era la possibilità che noi si potesse prendere dei personaggi dell'oggi e motivarne lo scavo e l'interessamento, la rivisitazione attraverso i testi che sono i testi di Simon Veil che sono che sono le storie che si conoscono di lei ma non solo di lei, di lei come personaggio storico, di personaggio calato nella realtà storica. E dunque il film aveva una partenza che poi il racconto cinematografico debba di volta in volta fare i conti con ciò che è più opportuno alla coerenza e anche alla coerenza formale, stilistica è una cosa che poi ci porta a fare delle scelte ulteriori e finali. Nelle scelte finali c'è il fatto appunto che tu hai pensato che fosse opportuno dare al film una maggiore compattezza rispetto alla coerenza dei personaggi piuttosto che crearne appunto il gioco dei rimandi in un'epoca così vicina come la nostra. Ma la nostra epoca è implicata ugualmente perché quei temi sentiamo che sono i temi di cui abbiamo bisogno oggi per considerare la storia presente e anche possibilmente quella futura. Quella presente sappiamo benissimo che in Italia è abbastanza carente e dunque impegniamoci attraverso questo tuo lavoro e altri analoghi e tanti altri che se ne possono fare perché sentiamo un gran bisogno di cultura un gran bisogno di conoscenza e dunque io per esempio credo profondamente nel fatto che il cinema ha avuto a suo tempo una grande funzione che era quella anche quella dell'impegno, quella didattica, quella formativa e oggi sento anche che il cinema deve poter insegnare a qualcos'altro ad assumere questa funzione ovvero insegnare il fatto che per poter tradurre e per poter trasferire cultura bisogna approfittare di tutti i canali che abbiamo oggi a disposizione per una conoscenza diffusa. La conoscenza diffusa significa sostanzialmente una formazione diffusa del pubblico che purtroppo ha risentito del calo di un interesse culturale generalizzato. Se la cultura diventa il nostro impegno per creare appunto una maggiore vicinanza di chi è disponibile, è disposto, è predisposto anche all'ascolto noi abbiamo modo di ricostruire una società che è diventata una società carente. La parola perno mi fa venire in mente il punto di incontro di due immagini il punto di incontro di due parole, il punto di incontro di elementi che tendono a sviluppare senso. Allora, la sensazione appunto che il montaggio debba essere nella concezione diffusa appunto qualche cosa di profondamente, non tanto problematico, ma profondamente responsabile è il fatto che il montaggio gestisce il senso. Il senso tra due immagini è dato dalla ragione dell'accostamento delle due immagini. Il senso di un racconto è stato dato dalla costruzione di una forma che poi ne rifletta il profondo significato e non invece un qualche cosa di più informativo, più didascalico, più illustrativo. E dunque quando si ha a che fare con dei temi che sono dei temi assunti per ragioni di responsabilità comunicativa sta proprio nell'aver scelto dei nodi, degli snodi e delle ragioni del racconto. Quando tu appunto poco fa dicevi che il montaggio troppo spesso recentemente è diventato un qualche cosa che viene letto come una possibilità elaborativa più superficiale che è data appunto dalla possibilità di conoscenza di un mezzo della costruzione linguistica è che in verità il mezzo è come avere in mano uno strumento qualsiasi per la comunicazione che può essere una penna, che può essere uno strumento musicale che può essere una qualsiasi forma applicativa quello che poi in verità fa la qualità del tuo lavoro è quanto tu metti di profondo e di condiviso e di partecipato e anche dunque un'elaborazione di senso nel lavoro. Dunque quando si... Una volta, più volte mi hanno chiesto ma tu con cosa monti? Con Avid? Con Final Cut? Con cosa monti? Eccetera. A me provocatoriamente mi viene da rispondere il monto col cervello. Allora, il lavoro che si fa in senso creativo in senso di costruzione, in senso di ragionevolezza anche formale, linguistica e ragionevolezza non vuol dire la misura, diciamo, che non osa al contrario, ragionevolezza nel senso che la ragione si dà delle forme e le forme devono poter rischiare devono poter rompere delle convenzioni per poter diventare espressive poter diventare evidenti e dunque io in questo senso rivendico proprio il bisogno che il montaggio sia un qualche cosa di forte forte ma non solo forte ma il punto nodale della costruzione. Io faccio un piccolo inciso sto provocando la mia scuola alla quale do il mio contributo da 34 anni che è il Centro Sperimentale Cinematografia ma sono stato adesso agli incontri del Select delle Scuole Mondiali di Cinema sono stato a Londra ad aprile per un simposium sulla postproduzione creativa ho affermato che il linguaggio cinematografico ha oggi un momento di fermo di mancanza di innovazione e che dobbiamo tornare al piacere della creatività in quanto la creatività costruisce il senso che noi vogliamo ottenere che vogliamo evidenziare cioè non c'è nulla che sia stabilizzato che diventi convenzione linguistica che possa in verità esprimere l'originalità di un pensiero l'originalità di un pensiero deve trovare la forma originale la forma propria a ciò che stai dicendo e allora tagliare prima tagliare dopo tagliare in modo anomalo o tagliare invece secondo dei criteri che sono più ortodossi sono sempre e devono sempre essere delle scelte grazie grazie grazie